Se entro domani la coalizione del candidato sindaco Roberto Barbagallo non cambierà nome e simbolo dei democratici per Acireale, la diffida si trasformerà in ricorso alla commissione elettorale. Ad annunciarlo ai nostri microfoni il segretario cittadino del Partito Democratico Antonio Raciti. L'11 aprile abbiamo presentato, inviato alcuni dei candidati che avevano pubblicato un simbolo simile a quello del Partito Democratico, abbiamo inviato una diffida e per conoscenza la commissione elettorale circondariale, diffidando dall'uso di un simbolo che per caratteri e colori e motto era simile e simile a quello del Partito Democratico. Il nostro obiettivo non è quello di creare problemi, ma è quello di rendere il voto degli elettori chiaro, cioè evitare che gli elettori vengano indotti in errore dalla presenza di simboli simili e quindi in definitiva rendere effettivamente chiara l'espressione di voto degli elettori, evitare confusione e quindi mettere in condizione gli elettori effettivamente di esprimere il proprio indirizzo, la propria scelta in maniera chiara e evitando appunto confusioni o errori. Se in questa giornata abbondante che manca la consegna delle liste, il logo di Democratici per la Cirale non dovesse essere cambiato, come vi comporterete? Se si vuole continuare a fare confusione saremo costretti a fare un ricorso presso la commissione elettorale circondariale e eventualmente dare ulteriore seguito a questo ricorso.